Bene, mi sono dimenticato di mettere il microfono Ok Ciao a tutti ragazzi Benvenuti in questo nuovo video Sì, sta arrivando il mio compleanno Penso di non arrivarci vivo Perché sto già iniziando a starnutire Non lo so, io spero di non arrivare il giorno del mio compleanno Che sono ammalato, mi è già successo Non è una cosa bella, proprio per niente Per niente, perché rimanere chiuso in casa Con la febbre, no No, no, proprio no Come avrete letto sicuramente dal titolo Oggi siamo in un video di InSegreto Come sempre vado a cambiare la batteria Arrivo subito Forse ragazzi È destino che questo video non debba uscire Prima il microfono, poi la telecamera Ora credo che sia tutto a posto Comunque stavo dicendo che siamo arrivati Al settimo episodio di InSegreto Quindi ormai sta serie sta diventando Un appuntamento fisso sul mio canale Come potete aver visto Dato che si sta per avvicinare il mio compleanno Ho deciso di fare un InSegreto a tema Compleanni Vi andrò a leggere quello che ho trovato Un uomo di 16 anni Cioè c'è scritto uomo di 16 anni Non è proprio un uomo È un ragazzo di 16 anni che dice E niente Oggi sono uscito con gli amici Bevo una birra E mi trovo ad un compleanno Di uno sconosciuto Insieme a miei amici Ubriachi Marci In un altro paese Che cosa è successo? Hanno praticamente rapito E tu non te ne sei accorto Andiamo avanti Con una ragazza di 18 anni Che dice Il mio segreto È che sto cercando Un ragazzo di cosenza Da pagare Per fingere Di essere il mio ragazzo Al mio compleanno Di che non hai il ragazzo Cioè fai più bella figura Ragazza di 16 anni Sono nata Il 29 febbraio Festeggio il mio compleanno Ogni 4 anni Che vita di merda Perché? Perché mi avete fatto nascere Il 29 di febbraio? Io mi incazzerei di brutto Donna di 24 anni Che dice Ho fatto il regalo di compleanno A mio fratello Con i soldi Presi dal suo salvadanaio Un minuto di silenzio Ragazza di 17 anni Che dice Il giorno del mio compleanno Il primo a farmi gli auguri È stato Google Andiamo avanti Con una ragazza di 15 anni Che dice Mi sono fatta regalare Un sacco da box Per il compleanno Perché non posso farcela A sopportare mia madre Mi sfogo un casino Hai fatto bene Molto molto bene Queste erano le cose Che ho trovato di segreto Se vi piace questa serie Lasciate un pollicione in su Vi ricordo di iscrivervi Qua sotto al canale Io vi mando Un bacione Noi ci vediamo La prossima settimana Con un nuovo video E Pucci a tutti ragazzi Fuuu Uuuu Noi ci vediamo